Se dobbiamo avere delle recriminazioni è che abbiamo sbagliato il primo tempo di Lione e a questi livelli si rischia di pagarlo, usciamo da una competizione con otto partite fatte e se vittorio un pareggio è una sconfitta, quindi con otto partite e 19 punti se ci fosse una classifica Champions saremmo primo secondi penso e invece siamo fuori, quindi questo mi lascia un'amarezza mostruosa, mi fa capire quanto sia maledetta questa competizione per la Juventus e se non ci fosse questa grande amarezza uscirei da questa partita sinceramente contento perché ho visto ragazzi rigenerati, hanno dato tutto, hanno lottato fino alla fine, hanno messo l'anima in campo, cuore, bene mi sono piaciuti. Stasera il dispendio mentale, una squadra deve reoperare, prende un rigore o sì, può andare completamente fuori di testa, quindi vuol dire che la squadra è rimasta lucida chiaramente spendendo tante energie nervose, tante energie mentali, ma è rimasta lucida perché è rimasta in partita e è arrivata a un soffio dalla qualificazione, te l'ho detto prima, quello per noi non era un rigore, era come subire due gol perché poi alla fine siamo andati fuori per quel rigore lì, non è chiaro un aspetto da poco nell'arco della qualificazione, quindi io ho visto ragazzi rigenerati, ci hanno creduto fino a un fondo in un momento in cui potevano anche mollare perché quel gol lì ci poteva portare anche a mollare. Grazie a tutti.